Ma che aspettare, la vita va vissuta adesso. Io vivo e vesto ecstasy per essere sempre trend ed esagerata in ogni momento. Che stanchezza. Ma di che pasta siete fatti? Ecstasy è moda del momento, sempre all'insegna delle ultime tendenze. Dica si può sempre esagerare. Si può e si deve. Io vesto ecstasy per esagerare, per regalarmi un pizzico di trasgressione in segno delle ultime tendenze. Ecstasy, per chi non ha paura di esagerare, come me, come te, ecstasy. Sul 5 almeno. Dai ragazzi, su, un po' di vita, fate come me, vedete? Vesto ecstasy e non ho mai paura di esagerare. Inizia la partita. Irrecuperabili. Bello! Ecstasy è moda del momento, sempre all'insegna delle ultime tendenze. Ecstasy, per chi non ha paura di esagerare. Indossando ecstasy, la vita è sempre esagerata. Sì, ma che pizza, non succede mai nulla di esagerare. Ma nella vita si può sempre esagerare, basta volerlo. Io ho scelto la collezione Ecstasy, per vestire sempre all'insegna delle ultime tendenze. Ecstasy, per chi non ha paura di esagerare, come me, come te, ecstasy. Ma nella vita si può essere un po' di esagerare. Ma nella vita si può essere un po' di esagerare. Ma nella vita si può essere un po' di esagerare. Ma nella vita si può essere un po' di esagerare. I swear this is true, and I'll hold it all to you. Dica si può sempre esagerare. Si può e si deve. Io vesto ecstasy per esagerare, per regalarmi un pizzico di trasgressione in segno delle ultime tendenze. Ecstasy per chi non ha paura di esagerare, come me, come te. Dica si può e si deve.